Benvenuti in AINF, l'Associazione Italiana di Medicina Funzionale. È un'associazione di medici, e non solo, dedicata completamente a quello che è la cura del malato. È una medicina che va al di là dei protocolli. Cosa c'è di sbagliato nel protocollo? L'errore del protocollo sta nel credere che i pazienti siano tutti uguali. Non esiste un'uguaglianza dei pazienti come non esiste un'uguaglianza delle persone. Esiste una similitudine, e questa similitudine ci porta innegabilmente ad analizzare a 360 gradi tutti gli aspetti che portano la persona alla malattia. Nella mia professione prima si guardava il sintomo e si dava una terapia, a seconda di quella che era l'indicazione che il sintomo metteva a disposizione. Invece con la medicina funzionale, guardando la parte della matrice, guardando tutto quello che è l'ambito della medicina funzionale, si va a cercare una causa, una serie di cause. Personalmente la medicina funzionale mi ha cambiato la vita. L'ho fatto perché mi ha permesso di entrare meglio in relazione con il paziente, ma anche nella relazione con il perché della sua malattia. La mia vita, sia personale che da medico, è cambiata, è in continuo cambiamento verso il benessere, la salute, comunque è un modo di vivere molto più bello a 360 gradi. Ha cambiato totalmente la mia professione perché finalmente vedo il paziente come una persona unica, non come un settore o un organo. Quando un paziente mi riporta il suo problema, io vado non soltanto a cercare di risolvere il sintomo, ma vado a interpretare il sintomo, quindi è proprio tutto un altro modo di lavorare. Non mi sento più una semplice prescrittrice di una terapia per un sintomo, ma sento di entrare in una sinergia profonda col paziente, lo ascolto, e vado a capire quello che è stata tutta la sua storia. Vieni a conoscerci perché cambierà il tuo modo di vivere la tua vita, la tua relazione professionale e il tuo rapporto con il paziente.